Signori, buonasera, Luca di approccialla.it, benvenuti in questa diretta. Vi ricordo che è uscito da poco il videocorso dall'approccio al sesso, qualche giorno fa. Lo potete trovare su www.approccialla.it, fatemi vedere se l'audio funziona. Due secondi. Oggi parliamo di come capire in anticipo se lei ci sta. Quindi ci sta sia l'audio che anche la ragazza. Quindi il titolo di oggi è come capire in anticipo se la ragazza ci sta. E quando vi dico ci sta non intendo per il numero o l'appuntamento, non intendo per il sesso. Abbiamo già un botto di gente collegata. Buonasera, signori. Chi ci sta collegando fate una prova a commento, giusto per vedere se poi i commenti si vedono dal desktop o dal telefono. Buonasera, la madonna. Buonasera, signori. Va bene, quindi vi ricordo che fino al 16 di marzo il videocorso dall'approccio al sesso lo potete prendere a metà del prezzo. Quindi vi ricordo che ci sono tre livelli, si chiamano livello base, livello intermedio, livello avanzato. Se prendete il livello intermedio, il livello avanzato al momento non è ancora disponibile. Se prendete il livello intermedio vi regalo il livello avanzato quando poi è pronto. Quindi state prendendo un corso e poi costa la 2000, lo potete prendere oggi o fino al 16 di marzo a 750. O sennò c'è il livello base. Quindi, giusto due cose, intanto vediamo se... Chi si sta collegando potete scrivere qualcosa solo per vedere se funzionano i commenti da lì o da qui. Ok, no, da qua funziona. Ok, buonasera Stefano. Chi è collegato faccia condividi, se volete potete anche iniziare a scrivere delle domande. Quindi, giusto una cosa sulla storia del virus. Visto che alcuni mi hanno chiesto, per chi appunto volesse prendere il corso però un attimo è frenato dalla storia che c'è il virus. Ragazzi, vi ricordo che questa situazione non è che durerà a vita. Cioè, prima o poi la gente riprende a uscire per strada. Cioè, non è che adesso rimarremo confinati tutti in casa per sempre. Quindi, avvantaggiatevi adesso. Prendete il corso, studiate e poi quando la gente ricomincia a uscire, potrebbe essere fra un mese, e so che tipo dal 3 aprile, comunque, non lo so, io non seguo tv. Quindi, però, prima o poi la gente riprende a uscire. Quindi, avvantaggiatevi adesso e poi dopo, quando la gente riprende a uscire, siete già preparati. E poi, soprattutto, sfruttate questo momento che ci sono i prezzi dimezzati. Quindi, avvantaggiatevi su questa cosa qua. Quindi, il corso lo potete trovare su www.approcciala.it per chi poi guarderà da YouTube, c'è il link in descrizione. Quindi, poi, dopo rispondo alle domande che avete inviato in onanimato. Chi è collegato adesso, potete scrivere anche le domande live, per chi vuole fare domande sul corso, su situazioni con ragazze, quello che volete. Quindi, se avete poi domande sul corso, potete scrivere anche l'assistenza su WhatsApp al 351-646-6774. Allora, parliamo di come capire in anticipo se lei ci sta. Perché se è collegato adesso, intendo se ci sta per il sesso, non per il numero, l'appuntamento, il bacio, ok? Devo sempre fare questa distinzione qui. Quindi, anzitutto, chiariamo questa cosa qua, che non significa che bisogna solo cercare, allora, quelle che ci stanno subito, ok? Si intende, quantomeno, eliminare quelle che non... con le quali non c'è possibilità di far niente e non ci sarà mai possibilità di far niente. Perché, appunto, avendo parecchia esperienza, ormai le riconosco già subito, quelle che ci vorrà troppo tempo per arrivare al sesso. Quindi, di conseguenza, io le scarto. Cioè, se vedo che... Adesso vi do alcuni segnali, perché, appunto, fondamentalmente, lo riconosco già dall'inizio. Avendo fatto di diversi appuntamenti, tanti appuntamenti, e avendo visto sempre le stesse cose, a seconda di quale tipo di ragazza, a un certo punto, ormai, lo ricapisco già in anticipo. Se è una che ci vorrà un appuntamento, due appuntamenti, tre appuntamenti, o mai. Oppure, magari, quel mai potrebbe essere, non so, sei appuntamenti, dieci appuntamenti, cioè, mesi e mesi. Non ne vale la pena, quanto meno per me. Quando siete all'inizio, invece, dovete fare più esperienza possibile per accumulare questo bagaglio di esperienza che poi, dopo, vi fa dire, ok, con questa qua non ci perdo tempo. Quindi, fondamentalmente, è nato tutto da... Presidente, quando si è andato a fare un po' di stand date e anche portare le ragazze nella seconda location, quindi facevo magari un'ora nella prima location, poi, dopo, mi spostavo nella seconda location, quindi facevo caffè e poi, dopo, mi spostavo nella seconda location per un drink, un aperitivo, quello che è. Mi rendevo conto e portavo alcune ragazze nella seconda location che tanto, cioè, poi, lì, mi rendevo conto che non potevo farci niente. Cioè, magari sì, potevo, però, magari, a un altro appuntamento. E quindi, però, avevo, diciamo, sprecato del tempo e anche dei soldi. Perché la seconda location, appunto, non è un caffè da un'ora e venti. Facendone, magari, anche diversi al giorno, diversi giorni a settimana, poi, dopo, a fine mese, siccome, cioè, non è poco, quindi bisogna anche tenere in considerazione questa cosa qua. Quindi, a un certo punto, ho detto, ok, fermo. Non porto nella seconda location ragazze che, diciamo, non hanno superato il colloquio di selezione, chiamiamolo così, nella prima location. Quindi, già nella prima location, io, magari, le faccio delle domande, testo dei suoi comportamenti, che adesso vi dico, ve ne dico alcuni, per capire se è una che posso, magari, portarla dopo nella seconda location, magari, invece, rinviare un primo appuntamento, o se non prendere neanche il numero, perché tanto non servirà a niente. Quindi, all'inizio, dovete fare questa distinzione, però, dopo, potete fare questa cosa qua. Quando siete agli inizi, invece, andate più avanti possibile nell'interazione, anche se riconoscete, magari, che tanto, non ci sarà niente a fare con questa qua, andate avanti lo stesso per fare più esperienza possibile. Quindi, innanzitutto, come vi risponde lei al contatto fisico? È una che, per esempio, mi è venuta in mente un appuntamento fatto un po' di tempo fa, che, praticamente, era un appuntamento, era un primo appuntamento, io ero seduto sul divanetto, in un lounge bar, e lei già da subito non si è seduta sul divanetto, già qua. Però, vabbè, ci può stare. Si è seduta sulla poltrona. Dopo, che ho fatto l'escalation fisica, l'ho fatta spostare adesso dalla mia parte, e quindi l'ho fatta sedere anche lei sul divanetto. È stata da cinque minuti, perché, tipo, l'ho detto, dai, vieni, ti faccio vedere una foto, li stanno parlando di viaggi, li sto facendo vedere delle foto. Poi, dopo che ho finito, è ritornata sulla sua sedia. Cioè, sta cosa qua non mi era mai successa. E lì ho capito, ok, con questa qua, di sicuro non ci arrivo neanche al bacio, figuriamoci al sesso. Quindi, già quello mi ha fatto capire. Poi non l'ho più neanche riscritto, in realtà. Quindi, però, come ho detto, è una cosa che fate dopo, non prima, però guardate come vi risponde al contatto fisico. Utilizzate la prima location, degli stand date, o comunque l'appuntamento, utilizzate, fate le cose che vi fanno capire come vi risponde. Se vedete che fate il contatto fisico, però, chiaramente, dipende anche da voi. All'inizio, in realtà, sarete voi, che avrete paura di fare il contatto fisico. Però, quando vi sbloccate un minimo, e lei, vedete che vi risponde in maniera troppo stranita, capite che lei non ha esperienza. Adesso vi do anche alcune dritte su questa cosa qua, su come capire se lei ha esperienza. Però, se capite che lei non ha esperienza, lo capite anche dal contatto fisico. Se vedete che vi risponde molto stranita, magari le prendete la mano per, magari, non so, guardarle le unghie, perché magari ha un colore particolare, non so. Poi, ci sono vari esempi anche all'interno del corso, su questo discorso qua, sulla parte della escalation fisica, e vedete che, magari, non si fa neanche prendere la mano, o magari, tipo, la tiene due secondi, così, e poi si stacca subito. Cioè, è una reazione che vi fa capire che, magari sì, ci vuole più tempo, magari riuscite a fare anche il bacio al primo puntamento, però, diciamo che, partite già che, molto probabilmente con questa qua, o ci vorrà tanto tempo, o comunque, di sicuro, non si fa niente al primo puntamento, magari neanche il bacio. Comunque, dipende dalla ragazza, dipende dalla reazione, ci sono un sacco di dipende. Adesso, vediamo anche altre cose. Vediamo cosa dice Stefano. Una ragazza che non si fa sentire a due settimane, oggi, mi chiede di andare a bere qualcosa, e gli dico di venire a casa da me, e poi mi dice, no, perché sai, c'è il virus, secondo te è possibile che abbia voglia di sesso? Certo che è possibile! È quello che vi sto dicendo adesso, porca, quello che avevo detto all'inizio, perché era collegato all'inizio. Quando poi la gente riprenderà a uscire per strada, ci saranno tutte le ragazze che sono arrappate. Ok? Fidatevi! Io le vedo già in anticipo le cose, perché lo so, è così. Dopo, quando la gente ricomincerà a uscire per strada, ci saranno le ragazze arrappate, perché le app di incontri, tanto non ci si incontra, anche se al momento è tutto fermo, signori. È tutto fermo. In strada tanto non potete approcciare, me compreso. In discoteca non si può andare. E anche se approcciate sulle applicazioni di incontri, tanto poi gli appuntenti non si fanno, perché poi magari i posti sono anche chiusi. Cosa succederà? Succederà che quando si ricomincia a uscire per strada, le ragazze saranno arrappate. Avvantaggiatevi di questa cosa, porca donna puttana. Prendete il corso, studiate, quando si ricomincia a uscire per strada, ci sarà questa corsa all'oro. Quindi chi arriva per primo si riuscirà ad accaparrare più ragazze possibili. Se questo è il vostro obiettivo. Se no, se volete trovarvi una fidanzata, ma comunque anche se volete trovarvi una fidanzata, dovete comunque prima acquisire un po' di esperienza e poi dopo dite, ok, adesso mi sistemo con una. Quindi ci sarà questa... Sì, per rispondere... Sicuramente lei ha voglia, però c'è questa cosa che sicuramente la blocca un po' anche. Quindi lì è un blocco mentale, cioè non è che puoi farci molto. Cioè se lei segue costantemente i media, la tv, il telegiornale, continua a cercare notizie, cioè se lei è continuamente bombardata con questa notizia qua, non è che tu puoi farci molto. O sei un manipolatore iperesperto, non saprei neanche dirti dove imparare certe cose. Quindi c'è questo ostacolo che al momento sì. Quindi come potrei fare per attirarla da me? Quale era un consiglio? Aspetta che vediamo se... Se provo a rileggere un attimo. Una ragazza non si fa sentire da due settimane. Oggi mi chiede di andare a bere qualcosa, gli dico di venire a casa mia, a casa da me, e poi mi dice no, perché sai c'è il virus secondo me. È possibile? Ok. Chiedi le meno investimento possibile. Quindi vai te da lei. Vai te da lei, magari se non so a che distanza siete, se siete in macchina, non so quanta strada devi fare, però farle fare meno investimento possibile. Quindi magari portala fuori, non penso ci siano posti aperti, da quello che ho capito. Porta tu magari una bottiglia di qualcosa, per bere, non so. Quindi quella ingegna di te, su dove poi andrete, magari mettici uno step in mezzo prima, quindi state fuori da qualche parte, magari in macchina, bevete qualcosa, ti porti dei bicchieri di plastica, ti porti una bottiglia, oppure la ordini magari anche con le applicazioni di delivery, e state un po' fuori, e poi dopo la porti a casa. Quindi chiedi le meno investimento possibile. Quindi fai tutto te, raggiungi da te, poi non so quali sono le distanze, quindi magari scrivi qualche dettaglio in più. Ok. Quindi poi chi avesse domande, se vuole può scrivere. Allora, quindi una delle questioni era il contatto fisico, quindi guardate come lei reagisce al contatto fisico. Questo vi fa capire poi con quanta velocità o lentezza riuscite ad andarci a letto. Quindi questa qua era la prima cosa. Poi ci sono molti più dettagli da dare in considerazione, cioè sulle reazioni, ci sono delle lezioni specifiche. Adesso stavo per darvi un trucco interessante, però adesso Fabio ha scritto qualcosa, quindi vediamo cosa scrive Fabio. Poi vi dico questo trucco segreto. In realtà c'è dentro il corso, però ve lo dico già anche qua. Allora, Fabio, quello che hai appena detto, la corsa all'oro e le ragazze alla parte, perché in astinenza uomini, riflette in pieno la massima, dietro ogni problema si nasconde sempre un'opportunità. Stare alla stessa intelligenza, accorgerci e sfruttarla. Esatto, ve l'ho detto, quindi per chi appunto, ve lo ripeterò un po' di volte in questi giorni qua, perché alcuni mi dicono, eh ma non so se prenderò adesso il corso, perché c'è il virus, prendetelo adesso, studiate, ah ieri, poi metterò lo screenshot, magari fra qualche giorno, c'è il ragazzo, uno dei ragazzi che ha preso il corso, Katalin, che non so se si è collegato, che ha scritto ieri nei commenti, prendete il corso, così avete il tempo per studiarlo, quando poi la gente ricomincia a uscire, siete più avvantaggiati rispetto agli altri, ci saranno le ragazze arrapate, che sono in astinenza da settimane, mesi, dipende da quanto durerà sta cosa qua, avvantaggiatevi adesso, ci sono i prezzi dimezzati, quindi se avete domande, scrivete assistenza su whatsapp, o se no chiedete a me in live, quindi vi dico questo trucco, abbastanza interessante, per capire in anticipo, se lei diciamo ci sta oppure no, quindi, innanzitutto, va contestualizzato questa cosa qua, quindi bisogna capire in quale punto dell'interazione siete, non è che lo dite dopo tre secondi che siete nell'interazione, dovete essere già almeno in instant date, oppure all'appuntamento, quindi, occhio a dover utilizzate questa cosa qua, chiedetele se è mai stata in una spiaggia per nudisti, ok? questa cosa, io l'ho iniziata a fare un po' di anni fa, ma così per sbaglio, cioè è saltato fuori l'argomento, e ho visto che però, ci sono delle domande, quindi il concetto di questo argomento qua, è farle delle domande, leggere degli indizi, che vi fanno capire questo, perché non è che ve lo dice esplicitamente, dovete leggere voi gli indizi, una delle cose che è molto efficace, adesso vi faccio alcuni esempi, nella mia esperienza, chiedetele se sei mai stata in una spiaggia per nudisti, chiaramente contestualizzatelo, doveva essere un momento, per esempio mi ricordo una, che mi ha supportato a casa il giorno stesso, più o meno 4 ore, 5 ore, una roba del genere, fra l'altro per chi è iscritto, per chi si è iscritto all'istattesa, poi oggi vi arriva via email il report di questa ragazza qua, praticamente, mentre ci spostavamo dalla prima location, alla seconda location, si parlava così di viaggi, si parlava della Sardegna, tipo io sapevo in Sardegna ci sono le spiagge per nudisti, se non sbaglio poi magari non è così, e tipo le ho chiesto, le ho detto, sei mai stata in questa spiaggia qua in Sardegna, ci sono le spiagge per nudisti, lei mi ha detto, no non ci sono mai stata, come si chiama il posto? Lì ho capito che mi sta chiedendo il nome del posto, perché poi avrei interesse magari ad andare, approfondire su questo discorso qua, quindi se una ragazza, cioè dovete leggere questi indizi qua, io in quel momento lì ho capito, ok con questa qua oggi è fatta, e però eravamo ancora, ci stavamo spostando dalla prima location, alla seconda location, quindi poi dopo c'è stata tutta la seconda location, l'aperitivo lì, la passeggiata, e poi portarla a casa, quindi però questa cosa qua io ho chiesto più o meno dopo un'ora, che eravamo insieme, però già sapevo che poi dopo, fra tre ore, quattro ore, quello che è stato, ci avrei scopato con lo stesso, quindi però l'ho capito già in anticipo, quindi questo qua è un esempio, faccio un altro esempio sempre con questa stessa domanda, praticamente era una, che gli ho chiesto, anche lei gli ho chiesto nello spostamento fra la prima location e la seconda location, quindi potete, vedete, vi sto dando proprio i riferimenti, quindi non è una cosa che le chiedete subito, 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 potete chiedergliela nella prima location, sì, a me è capitato, cioè non è che c'è una tempistica precisa, io però mi capita di chiedere delle volte, nello spostamento fra la prima location e la seconda location, ho chiesto questa qua, che se lei è mai stata in una spiaggia per nudisti, e vabbè, la risposta è stata veramente ovvia, mi ha detto, no però ci andrei con te, cioè, lì lo capite, se non siete dei deficienti, lo capite, e però ancora non ci avevo neanche fatto il bacio, avevamo fatto un'ora insieme nella prima location, ci stavano spostando nella seconda location, gli ho fatto questa domanda, mentre ci spostavamo da una location all'altra, e poi dopo abbiamo fatto un'altra ora, un'ora e mezza nella seconda location, poi l'ho baciata lungo la strada, per arrivare alla seconda location, poi dopo abbiamo fatto una passeggiata, poi dopo l'ho portata a casa, quindi in totale 4-5 ore dall'approccio, quindi dovete leggere questi indizi qua, ve ne dico giusto un'altra, poi passiamo oltre, durante un corso al vivo, non so se è collegato, Roberto, che aveva fatto questa domanda a una ragazza, durante un appuntento, e la ragazza gli aveva detto, che lei sì, lei c'era stata in una spiaggia per i nudisti, non è che, a meno che non sei pirla, se fai l'escalation fisica fatta correttamente, non è una che ci vorranno 800 milioni di appuntamenti, magari sì, ci possono vedere magari qualche appuntamento in più, però lo capite, che se non fate pirlate, ci arrivate, non è una che serviranno miliardi di appuntamenti, per andarci a letto, quindi utilizzate questo consiglio qua, fra l'altro è dentro il videocorso questo consiglio, quindi ve lo regalo così, chi ha domande se vuole può scrivere, mi son buttato l'acqua addosso, ma tanto non si vede nel video, speriamo che il microfono si sia rotto, quindi, quantomeno, io vi consiglio di eliminare le ragazze, che non potete farci sesso, entro il quarto appuntamento, quindi, se capite già che le cose andranno per le lunghe, va bene, andate per le lunghe, però queste lunghe non devono essere, cioè, il quarto appuntamento deve essere proprio il limite, quindi se dovete andare anche al quinto appuntamento, o state sbagliando voi qualcosa, di solito nell'escalation fisica, magari, di solito è quello, oppure il piano logistico, non ce l'avete chiaro, però arrivare fino al quinto appuntamento, è una cosa esagerata, non, cioè, state sbagliando qualcosa voi, oppure lei ha poca esperienza, ma se ha poca esperienza, non è che lo capite al quarto appuntamento, lo capite prima, se lei ha poca esperienza, io ci sono un sacco di domande, che potete fare alla ragazza, che vi fanno capire queste cose qua, poi vi do, vi do qualche altro suggerimento, io per esempio, non sono mai andato a letto con una ragazza, al terzo appuntamento, mai, zero, mai successo, quindi, a me è massimo il secondo appuntamento, e mi è capitato, in delle volte, per esempio, una volta in particolare, mi è capitato di andare fino al sesto appuntamento, con una ragazza, ma tanto, lo sapevo già, che tanto non si faceva niente, però comunque, ci andavo per, giusto per fare esperienza, quindi, io per esempio ne conosco uno, che è molto esperto, più di me, che però non insegna, non è un istruttore, lui, tutto e sempre al primo appuntamento, non gli capita mai, al secondo appuntamento, o al terzo appuntamento, sempre al primo appuntamento, poi, lui ha decenni di esperienza, nel campo della seduzione, però, le ragazze con cui esce, sono veramente, strafighe, e oltretutto, questa cosa è paradossale, da una parte, quelle che sono più fighe, da una parte, sono più facili, perché comunque, hanno esperienza, non sono, bloccate col contatto fisico, una che magari, è una più normale, magari ha meno esperienza, e quindi, è più bloccata col contatto fisico, quindi ci vuole più tempo, con lei, quindi dipende, vi sto dicendo non so che cosa, c'è una lezione, poi all'interno del corso, che si chiama, come si chiama questo video, si chiama, come capire l'anticipo, se lei ci sta, c'è una lezione, molto più dettagliata, e strutturata, con svariate domande, che potete fare alla ragazza, per capire, tutte queste cose qua, per esempio, un'altra delle stronzate, che, non so, sono credenze comuni, e le credenze comuni, ricordatevi, che sono sbagliate, per definizione, dove va la maggior parte, delle persone, tende ad essere sbagliato, una delle credenze comuni, è che, serve tempo, per conoscersi, è una stronzata, questa cosa qua, serve tempo, in misura, di quanto, ci si nasconde, se, non vi nascondete, quanto serve a conoscersi? Una sera, un giorno, non serve, molto altro, ecco perché, per esempio, io ho mai andato oltre, il secondo appuntamento, per farci sesso, sono andato magari, al terzo appuntamento, al quarto appuntamento, e anche oltre, ma poi, tanto di poi, non si è combinato niente, perché, vabbè, magari lei aveva, difficoltà con il contatto fisico, magari io avevo poca esperienza, però se sviluppate, una comunicazione defiltrata, dove non vi censurate, questa cosa poi, porta anche lei, a non nascondersi, non censurarsi, eccetera, quindi, in quanto tempo vi conoscete? In due, tre, quattro, cinque ore, non servono 200 appuntamenti, quindi questa cosa, è una stronzata, non la insegna nessuno in particolare, è una credenza comune, ma, comunque, poi, vi do giusto un altro spunto, su questo argomento, un'altra delle domande, che potete fare alla ragazza, per capire quanto lei si è aperta, oppure no, è chiederle, qual è la cosa più pazza, che tu abbia mai fatto, quindi questa cosa qua, vi fa capire, quanto lei, diciamo, può essere aperta, o chiusa, e quindi, con quanta velocità, o lentezza, potete andarci a letto, se vi dice che la cosa più pazza, che hai mai fatto, è copiare la verifica a scuola, capite che, magari ci vorrà, un bel po' di tempo, se vi dice, non so, la cosa più pazza, che hai mai fatto, è far sesso, sul tettuccio, della macchina, poi si è rotto il tettuccio, sono caduti, non lo so, sto inventando, capite che, è un'altra cosa, quindi è molto più aperta, quindi, molto probabilmente, potete farci qualcosa, in giornata, magari, al primo appuntamento, però, di sicuro, non al terzo appuntamento, quindi, dipende, poi, qua, entriamo anche in un altro discorso, ovvero, le diverse categorie di ragazze, quando fate questa domanda, a una ragazza, quindi, qual è la cosa più pazza, che tu abbia mai fatto, potrebbe essere, che lei, non vi risponda, e vi regiri la domanda, quindi, questa qua, è proprio una categoria di ragazze, cioè, una lezione apposita nel corso, si chiama, diverse categorie di ragazze, ci sono delle ragazze, che non si espongono, proprio mai, in nessun caso, e quindi, vogliono sempre, che siate voi, i propri miei esporbi, e poi, dopo, magari, forse, si espongono, anche loro, su queste cose, magari, un po' più, più scomode, da raccontare, quindi, se ve la rimando indietro, questa domanda, vi consiglio di raccontare, qualcosa di, diciamo, più vicino possibile, alla sfera sessuale, in modo che, però senza essere, super mega iper espliciti, cioè, non dite, ho fatto sesso con questa, con questa, con questa, abbiamo fatto questo, quindi, dipende, se, se il contesto lo permette, magari anche sì, però di solito no, quindi, raccontatele un qualcosa, di più vicino possibile, alla sfera sessuale, per esempio, uno dei ragazzi, che è venuto al corso, Jacopo, che gli aveva raccontato, alla ragazza, che la cosa più pazza, che lui aveva mai fatto, era tipo, che lui suonava, sui palchi, e tipo si era denudato, sul palco, questa cosa qua, poi è molto utile, perché la ragazza, poi si sente più, a suo agio, nel raccontargli, qualcosa di, di simile, se l'ha fatto, quindi, questo qua, è un esempio, se non avete niente, di super, di super esplicito, da raccontare, magari inventatevelo, quindi, non so, magari gli dite, che, non lo so, eravate, al mare, con i vostri amici, e poi dopo, non lo so, avete fatto il falope, vi siete ubriacati, siete andati a nuotare, tutti nudi, e poi vi siete svoiati, la mattina, che non vi ricordate niente, non lo so, però raccontatele qualcosa, di più vicino possibile, alla sfera sessuale, che però non sia troppo esplicito, in modo che autorizzate anche lei, a magari raccontarvi qualcosa, così capite, se magari è una che ha zero esperienza, oppure ha un po' di esperienza, c'è una lezione poi, nel corso, per chi volesse approfondire, su questo discorso qua, vediamo, allora, io mi ho preparato un paio di esempi, di cose che sono successe, in corsia al vivo, vediamo se è il caso, di raccontarveli, o se andiamo troppo per le lunghe, perché poi ci sono anche le domande, che avete inviato, ah merda, qua non vedo le domande, qua sì, che palle, non si sente l'audio, io sento, si sente l'audio, da che palle, chi è collegato, mi dice se si sente, se si sente, perché adesso qua, mi sono spariti i commenti, e qua funzionano, c'è chi dice che non si sente, c'è chi dice che si sente, l'acqua è caduta sul microfono, dai che palle, qualcuno mi, mettete un like, mettetevi un like compulsivo, per dirmi se funziona o no, se mi sentite, adesso leggo tutte le varie cose che avete scritto, infatti mi sembra strano, che non arrivano più le domande da lì, datemi un segnale, se mi sentite, a me sì, io sento, ok, va bene, mi date conferma che si sente, si sente, ok, va bene, quindi devo recuperare tutte le domande che avete inviato prima, che avete scritto qua, che io non le vedevo da qui, ok, va bene, fantastico, facebook, un genio, vabbè, allora, vediamo qua le domande che avete fatto, io sento, ok, ok, appena, quindi appena finisce questo periodo, la invito a cena, vedi te, cioè, puoi anche magari non aspettare la fine di questo periodo, perché non, rispondo a Stefano, la sua domanda di prima, quindi, potrebbe essere che questo periodo, non sai quanto dura, questo periodo, quindi la cosa che puoi fare, è di, come ti ho detto, fai fare meno investimento possibile a lei, quindi, perché aspettare proprio la fine, fine, non lo sai quanto ci vuole, tu prova a fare quello che riesci a fare, a livello di quello che riesci a tirare fuori da lei, quindi, se riesci a tirarci fuori un appuntamento comunque, prova, se non si riesce, pazienza, rimandi, però il concetto in questo caso è, falle fare meno investimento possibile, creagli degli scenari in cui, le fai capire che sarà al sicuro, che non ha niente da perdere, questo è il concetto, le ragazze danno molto valore, a questa cosa del sentirsi sicure, questo è poi uno dei concetti per fare gli inviti, per portare la ragazza a casa, andiamo a casa mia, poi dopo ti riporto al tuo hotel, ti riporto io a casa, sto banalizzando l'invito, poi all'interno del corso c'è proprio una parte dedicata all'invito, sia degli stand date, che per portare la ragazza a casa, è una parte vitale dell'invito, il crearle uno scenario in cui non ha niente da perdere, quindi falle, cioè, falle fare meno investimento possibile, quindi vediamo se hai scritto qualcos'altro su questo discorso, allora, quindi appena finisce, Catalin dice, adesso le tipe si mettono sulle app di incontri come passatempo, perché si è a noi a casa, mica per uscire, giusto, e non ti so dire, perché io non uso applicazioni di incontri, le uso ogni tanto, quindi non ti so dire, questa cosa qua, però ho feedback di persone che usano più spesso applicazioni di incontri, anche pesantemente applicazioni di incontri, e mi sta dicendo che non riescono a tirare fuori appuntamenti, perché le ragazze non escono, quindi, da quello che so, ci sono un sacco di ragazze che stanno utilizzando le app di incontri, solo per passarsi il tempo, quindi, questa è la situazione, però come vi ho detto, io per esempio, una cosa che potete fare, se volete, per sempre rimanere un po' in allenamento, ne ho già parlato in qualche diretta fa, è il fatto di prendere il contatto della ragazza, magari se usate le chat di incontri, prendere il contatto della ragazza, e ci fate magari una videochiamata, mentre fate altro, mentre vi passate il tempo, mentre cucinate, io per esempio, vi dico questa cosa qua, perché l'ho fatto qualche giorno fa, con una ragazza russa, che c'era in contatto, lei e lei sono in Russia, e ogni tanto ci sentiamo così, e praticamente, mentre, siccome lei sapeva che non c'è, anche il, non vi sto a dare informazioni su questo, però, comunque, ogni tanto ci sentiamo così, e, mentre stavo cucinando l'altro giorno, mi fatti una videochiamata, e beh, così, ma così, senza nessuno scopo particolare, così, giusto per chiacchierare, almeno vi mantenete in allenamento, con la conversazione, quindi, questo è il momento, quindi, non è che ci sono molte altre opzioni, che potete fare, quindi, potete magari prendere, dei contatti, e, allenarvi, semplicemente, a chiacchierare con lei, senza, cioè, tanto perché non potete invitarla, per un appuntamento, se riuscite a invitarla, se riuscite a trovare un modo per invitarla, senza farle investimenti, a livello di spostamenti, rendendovi a, in uno scenario, in cui non è niente a perdere, eccetera, se riuscite, bene, però, giusto anche per chiacchierare, così, potete provare, magari, se usate Tinder, potete mettere la geolocalizzazione, magari, in altri paesi, così, parlate anche con ragazze, di altri paesi, non lo so, mi sto dando delle idee, allora, si sente, sento benissimo, lo sentivo tutto fino all'inizio, si sente, ok, va bene, si sente l'audio, però da qua, io non vedo i commenti, quindi da qua, dallo schermo qua, non vedo i commenti, quindi devo guardarli qua, che due palle, vediamo se, così funziona, no, continua a non farmi rivedere, va bene, quindi li devo guardare da qua, i commenti, quindi vi dico, va intanto, chi ha domande, può scrivere, vi faccio giusto un paio di esempi, di cose che sono successe, nei corsi a vivo, perché appunto, io nei corsi a vivo, ho il microfono nascosto, quindi c'è, ho il microfono che è attaccato allo studente, quindi io sento tutto quello che dice, e ci sono delle cose, che da volte lo studente non le vede, però per me sono palesi, quindi sempre riguardo a questo argomento, di capire, in anticipo se le ci sta, per esempio, una volta in uno degli appuntamenti, ci sono stati in un corso, mi ricordo, c'era questa ragazza qua, mi sono segnato, qualche appunto, su questo appuntamento qua, praticamente, il corso l'abbiamo fatto in Polonia, a Varsavia, i corsi, poi per i corsi a vivo, ci saranno aggiornamenti, tra un po', quindi poi vi aggiorno anche, sui corsi a vivo, stavo valutando di farli all'estero, i corsi a vivo, quindi poi dopo, ci saranno aggiornamenti, ho sentito alcune ragazze, che sono, in altri che conosco, in altri paesi, e lì mi hanno detto che fondamentalmente, cioè la gente va in giro, in strada tranquillamente, ci sono discoteche aperte, quindi, in teoria, fare un corso in un altro paese, si potrebbe fare tranquillamente, quindi poi però, andrò prima di accertarmene, farò magari una settimana di day game, in qualche altro paese, e poi vedo se, se la cosa si può fare, quindi poi vi aggiorno, magari farà un po' di tempo, su questo, sul discorso di corsi a vivo, quindi, c'era una ragazza, in questo corso a vivo, che abbiamo fatto in Polonia, a settembre, settembre l'anno scorso, c'era questa ragazza qua, che praticamente diceva che, uno, non aveva mai avuto una relazione seria, quindi, quando lui, durante il corso, gli ha chiesto, quanto tempo fa è stata l'ultima relazione, che è una delle domande, potete utilizzare, per capire se lei ha esperienza o no, quindi, chiede, quanto tempo fa, è stata l'ultima relazione, lei ha risposto, che non ha mai avuto una relazione seria, il primo indizio, ora, lei viveva lì, quindi, eravamo a Varsavia, lei viveva lì, noi invece eravamo lì, solo per sette giorni, la ragazza sapeva che, lui era lì solo per sette giorni, ma comunque era venuta, era venuta all'appuntamento, oltretutto, gli ha detto che, lei non ha mai avuto una relazione seria, cosa cazzo vorrà dire, fate uno più uno, viene fuori che, era venuta all'appuntamento per scopare, però lui, no, ma no, non è interessata, e così, e così ci si perde gli appuntamenti, sono segnali piccoli, che però, se non avete esperienza, non li capite, quindi, c'è poi all'interno del corso, una lezione specifica, nel livello intermedio, non nel livello base, nel livello intermedio, che si chiama come capire l'anticipo se lei ci sta, e ci sono tutte queste domande che potete fare alla ragazza, che vi fanno capire se lei ha esperienza, se non ha esperienza, vi porto anche proprio gli esempi dei corsi dal vivo, esempi di mie esperienze, per farvi capire che ci sono degli indizi che lei ti dà, che dovete saper leggere, altrimenti vi perdete delle occasioni, quindi questo qua era uno, adesso vi dico l'altro, vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa, pare di no, bene, quindi andiamo avanti, un altro appuntamento, sempre in un altro corso dal vivo, praticamente questo qua, allora, innanzitutto, c'è un momento in cui stavano parlando i due di Romeo e Giulietta, non so perché, parlavano di Romeo e Giulietta, e lei ha detto però che lei si riteneva una che per niente è romantica, questo qua è un indizio che vi fa capire che lei più che altro non è tanto una da relazione di lungo termine, è più che altro una da magari sesso senza impegnarsi, magari anche dato un'amicizia, quindi una cosa di lungo termine, però senza necessariamente impegnarsi, quindi sono tutti indizi che dovete saper leggere, quindi nel corso ci sono diversi esempi che vi faccio, però in realtà ci sono alcune cose standard che vi posso dare, però poi vi devo mettere più esempi possibili perché le casistiche poi sono sempre diverse, quindi ci sono delle cose che capitano più spesso, però fondamentalmente gli indizi che vi dà la ragazza poi variano, quindi dipende. Poi, anche lei, ecco, questa è interessante, lei non era lì di Varsavia, lei stava lì due giorni, noi stavamo lì sette giorni, e che cazzo vorrà dire? Cioè, una che viene all'appuntamento lì, nonostante sta lì solo due giorni, quindi, cioè, investe praticamente forse un quarto, una giornata sulle due giornate che lei sta lì per venire all'appuntamento, sapendo che tanto poi anche noi stiamo lì sette giorni, quindi poi tanto non si rivedranno più, nel 99% dei casi, cosa vorrà mai dire? Viene all'appuntamento così per perdere tempo? Non penso proprio, quindi, però dovete saperle leggere, queste cose qua. Poi, a un certo punto lei ha detto che non vuole figli, adesso non mi ricordo di cosa si parlava, perché, come è uscito il discorso, però lei ha detto che non vuole figli, se lei non vuole figli, è più propensa appunto a scopare senza impegno, ok? O comunque, anche magari, magari una relazione, però, c'è più disinvoltura sull'argomento sesso se una dice che non vuole figli. Poi, una domanda che lui ha fatto, che è una delle domande che poi ci sono all'interno del corso che per esempio è il che tipo di ragazzo ti piace, queste sono le domande che potete fare per capire se lei ha esperienza, eccetera, quindi, poi è tutto spiegato all'interno del corso, lei ha risposto che in questo momento non cerca una relazione, ok? Sono cose che magari adesso vi sembrano ovvie, cioè io vi sto dicendo cazzo è ovvio, come ha fatto a non capirlo? Adesso ce ne sono anche altri indizi che lei gli ha dato, però, sono tutte cose che arrivano, magari il primo indizio arriva a 5 minuti dall'inizio dell'appuntamento, il secondo indizio arriva a 15 minuti dall'inizio dell'appuntamento, sono cose che se io non me le segno, lui non le avrebbe mai viste, quindi sono cose che se non le notate, poi quando li mettete in fila tutti questi indizi qua, dite cazzo, era ovvio, però sul momento non vi è così ovvio perché magari un indizio vi arriva in un certo punto, il secondo indizio vi arriva mezz'ora dopo, quindi dovete saper leggere queste cose qua, poi lei ha detto che le piace bere il whisky, quindi quando lei vi dice che è più una da alcol, magari anche alcol pesante, vuol dire che è più aperta mentalmente, 18 se lei dice che no, sono più da caffè, più da tè caldo, cioccolata, di solito è una che diciamo è più più chiusa, non che non si possa magari farci sesso da primo puntamento, però oggettivamente è una più diciamo non dico chiusa, però quella che magari preferisce magari alcol, alcol pesanti è più disinibita, non perché si ubriaca, in quel momento era sobria, anzi era un puntamento di giorno, però sono segnali che dovete saper leggere, poi vediamo se qualcuno, ok, un altro giusto, l'ultimo indizio che a un certo punto lui gli ha chiesto quante relazioni hai avuto in passato, questa è una domanda che potete fare magari dopo che state già parlando un po' di relazioni, a giù d'appunto gli ha chiesto quante relazioni hai avuto in passato e lei ha risposto che ha avuto un sacco di relazioni, ora qua non ha specificato se erano relazioni fidanzato-fianzato oppure solo scopate occasionali, trovo amicizie o quello che è, però è un segnale ottimo, perché vuol dire che lei ha esperienza e mi ricordo una delle ragazze dell'anno scorso che ci sono attretto il giorno stesso che l'ho conosciuta in tipo 4-5 ore, mi ricordo che quando mi ha detto, io l'ho chiesto nella seconda location dell'istan date, le ho chiesto quanti fidanzati hai avuto in passato, lei mi ha detto che ne aveva avuti 4, poi le ho chiesto quanto sono durati, eccetera, quindi poi queste domande, il menu con tutte le domande lo trovate poi all'interno di questa lezione specifica nel corso, appunto, lei mi aveva risposto che aveva avuto in totale 4 fidanzati e sono durati tutti in circa 2 anni, il primo fidanzato mi ha detto che l'aveva avuto quando aveva 18 anni, lei adesso ne aveva 26, quindi cosa vuol dire? Se vi fate il conto vuol dire che ha avuto ovviamente è sempre stata finanzata dai 18 ai 26, quindi ha comunque sempre avuto esperienza a livello di contatto fisico, a livello di far sesso, quindi è molto più facile andarci a letto rispetto a una che magari è sempre stata single, poi dipende anche lì, magari è sempre stata single però ha sempre scoprato la single, però magari è stata sempre single e non ha mai fatto esperienza, quindi lo dovete saper leggere queste cose qua, è lunga signori, c'è una lezione all'interno del corso di più di un'ora su questo discorso qua. quindi sul discorso di come capire l'anticipo se ci sta io non ho nient'altro, quindi adesso passiamo alle domande. Ma quindi va bene parlare degli ex? Di solito dicono tutti di evitare l'argomento. Esatto! L'ho detto già miliardi di volte questa cosa qua. Va bene parlare degli ex, va bene, non tanto degli ex, va bene parlare di relazioni, di relazioni passate, soprattutto relazioni passate, per capire se hai esperienza o no. ricordati Marco che ha chiesto la domanda, quando pensi tutti dicono che già ti deve venire un attacco di panico quando senti tutti dicono che perché tutti sono degli idioti, tutti stanno sbagliando. Ricordati che la maggior parte delle persone si sbagliano su tutto. la maggior parte delle persone non sono capaci di approcci a una ragazza per strada. Quando tu senti, quando tu nel contesto di approcci per strada senti ma tutti fanno così, tutti dicono così, ti deve venire un attacco di panico perché stai sbagliando se tutti stanno facendo quella cosa. Quindi, per quello vi dico, le credenze comuni sono 99% di volte sbagliate. Quindi la storia del parlare degli ex è sbagliata. Lo si impara nei film, non so. Poi dipende, non sempre, per esempio, mi ricordo una ragazza che abbiamo parlato di relazioni e dopo mi ha detto che non le piaceva parlare di questo argomento. Basta, fine, tagli, cambi argomento. Però mi è successo una sola volta. Però lo fai dopo, quindi calibra dopo, guarda la reazione e poi dopo ti calibri di conseguenza. Sì, ovviamente intendevo tutti nel mondo della seduzione. Sì, sì, ma guarda, tutti nel mondo della seduzione pensi che abbiano risultati? Per chi ha già preso il corso nella lezione sul con che frequenza uscita, io mi metto a fare un'analisi di tutte le persone che ho conosciuto in questi anni, che ho quanto meno in rubrica o magari su Facebook. Sono circa 200, ma questo a quando ho registrato la lezione e quelli magari là, ce ne sono alcuni che non hanno il contatto, però 200 persone che ho conosciuto, quindi gamers, gente che poi usciva ad approcciare. Ho guardato, quanti di loro, so per certo che hanno risultati costanti e frequenti, risultati in termini di ragazze con cui vanno letto. ho fatto il conto erano una decina su 200. Il 95% fallisce, il 95% si sbaglia, perché che fa le cose sbagliate, quindi questa cosa non vi deve spaventare che il 95% si sbaglia. Capitelo, voi diventate parte del 5%. Allora, abbiamo le domande in anonimo, quindi io da qua non le vedrò le domande qua, quindi tutte le volte devo guardare sulla, devo fare uno switch della pagina tutte le volte per vedere le domande. Quindi chi ha queste domande può scriverle, vediamo un attimo se qua riesco ad aggiustare, però penso di no. No, non me le fa vedere. Ah, forse sì, aspetta, forse, forse, ah, va che bello, ho ripristinato le domande da qua, non so come, però le ho ripristinate, quindi l'ultimo commento che c'è qua è di Marco, anche qua, pare che funzioni, quindi forse li vedo anche da qua i commenti adesso, quindi potete scriverli da qua e li vedo anche dallo schermo qua. Allora, giusto una cosa, c'è uno che ha inviato la domanda in anonimo che si è firmato come aspirazione Buddha, però tu, chiunque tu sia in anonimo, non ti rispondo perché la domanda non è pertinente, tu sai cosa hai scritto, non ti rispondo perché non è pertinente con il mondo della seduzione. Una domanda più che altro sulla crescita personale, però una domanda molto da gossip, non ti rispondo. quindi passiamo alle altre domande queste qua, giusto, precisazione. Allora, altro anonimo che si è firmato come Marilyn Manson che chiede Luca, sono troppo curioso di saperlo, ma che lavoro facevi prima? Quando sei uscito con la polacca di 25 anni e le hai dato la cravatta? Allora, questa è per chi non sa di cosa sto parlando perché chi si è scritto la lista attesa quando c'è la lista attesa per il videocorso adesso state ricevendo una volta al giorno di sera un mio report di miei racconti con le ragazze dall'approccio fino al sesso. Ieri è arrivato questo report qua via mail a chi si è scritto e quindi qua sarà qualcuno che ha scritto la lista attesa facevo l'agente immobiliare quando sono uscito con quella ragazza lì che c'è nel report e lo riconosci dalla cravatta. Quindi, passiamo avanti. Anonimo chiede Buonasera Luca, per chi ha acquistato il corso a livello base e intende più avanti recuperare anche i livelli intermedio e avanzato dovrà ripagare anche il corso base oppure pagherà solo la differenza tra i due corsi? Bella domanda. No, non devi ripagare il corso intero paghi solo la differenza. Quindi, questa cosa qua fra l'altro siccome la domanda l'ho già vista oggi pomeriggio o quando l'hai inviata chiunque tu sia ho aggiornato la pagina dove ci sono tutte le informazioni quindi se andate giù nella pagina non mi ricordo in che punto l'ho messo ho specificato questa cosa qua quindi chi prende magari il livello base del corso poi in futuro quando ci avete voglia potete fare l'upgrade a livello intermedio o a livello avanzato se sarà già disponibile e non dovete ripagare tutto il corso pagate solo la differenza quindi se per esempio oggi prendete il livello base a 500 e magari fra non so fra tre giorni dite ma facciamo l'upgrade a livello intermedio pagate solo i 250 di differenza quindi non dovete ripagare il corso quindi se avete domande sul corso fatemele anche poi Anonimo chiede ciao Luca ora il metodo di pagamento Paypal funziona secondo me erano causati troppi pagamenti di fine allora questo qua perché ieri appunto dicevo che qualcuno aveva provato a prendere il corso pagandolo con Paypal che in teoria dovrebbe funzionare però per il momento tutti quelli hanno preso il corso l'hanno preso o con la carta o con il bonifico se qualcuno ha provato a prendere il corso con Paypal mi faccia sapere da qualche parte se non funziona che se non funziona dobbiamo aggiustare questa cosa qua se avete problemi con i processori di pagamento con Paypal quantomeno perché sappiamo che chi ha provato a prendere il corso con la carta o con il bonifico funziona tutto se avete problemi nel prendere il corso usando Paypal scrivete all'assistenza su Whatsapp il numero è 351-646-6774 se qualcuno che è collegato adesso che ci ha già provato e non vi è funzionato ditemelo anche magari qua in live o se no scrivete all'assistenza su Whatsapp perché se non funziona dobbiamo aggiustare questa cosa qua o se no se qualcuno vuole provare a fare una prova live se qualcuno vuole provare a fare una prova live io apro Paypal e vi dico se funziona o no e se qualcuno vuole fare una prova me lo dica magari live e anche se apro Paypal allora Anonimo chiede ciao Luca l'ultima volta ho baciato una ragazza che non mi piaceva l'ho fatta solo perché non baciavo una da parecchio e lei ci stava e adesso è una mia amica gli ho fatto capire che non c'è interesse da parte mia secondo te questo è un errore una seduzione baciare una che poi non vuoi più purtroppo le altre li mettono sempre in zona amicizia allora lo puoi fare per praticare questa cosa quindi da una parte va bene dipende anche da che punto sei in che punto sei del tuo percorso di miglioramento quindi se sei magari gli inizi vuoi far pratica puoi farlo una cosa che può aiutare molto a migliorare che ho imparato da una persona che conosce Julian Blanc che praticamente lui quando gli chiedevano come hai fatto di entrare così bravo in così poco tempo lui diceva che trattava tutte le ragazze come se fossero dei dieci quindi anche se magari una era un cesso lui la trattava come se fosse un dieci quindi provava comunque magari a portarla a casa quindi dovete impiantarvi questo concetto qua quindi per esempio allora Katalin dice l'ho provato a prendere con Paypal e non mi andava allora ok quindi questa cosa è un bel problema Katalin quindi grazie per il feedback dobbiamo aggiustare questa cosa qua quindi questo è un bel problema quindi ci sarà qualcuno che sta provando a prenderlo con Paypal e non funziona ottimo va bene quindi poi dopo aggiustiamo questa cosa qua vediamo di capire qual è il problema quindi se qualcun altro ha feedback su perché ha provato a prendere il corso con Paypal ditecelo così vediamo anche in quanti siete che hanno avuto questa difficoltà quindi dove eravamo arrivati che stavo dicendo aspetta rileguo la domanda quindi fondamentalmente il concetto è che solo perché l'hai approcciata non devi prendere il numero dovete impiantarvi queste cose qua solo se volete magari fare tanta pratica con tante ragazze e sfruttare quindi ragazze anche magari non bellissimissime quindi ricordatevi che solo perché magari le scrivete non significa dovete anche uscirci quindi potete magari fissare tutti gli dettagli fino all'appuntamento e poi dopo non ci uscite è per far pratica per esempio conosco ragazzi che per far pratica portavano la ragazza a casa e poi non ci facevano sesso perché si allenavano sul portare la ragazza a casa però magari non erano veramente interessati ok quindi ragionate su questa cosa qua poi non è che bisogna farlo per forza però ragionate su questa cosa qua dipende in che punto sei comunque quindi può essere magari una partenza facile per diciamo motivarti a buttarti quindi magari fare un bacio facile con una che magari non ti interessa veramente fare un appuntamento facile con una che non ti interessa veramente far sesso con una magari che non ti piace veramente però solo per diciamo motivarti uno magari anche poi appuntare ragazze di più alto livello e due anche per proprio motivarti poi di più all'azione quindi dipende dipende ci sono diversi dipende su questo discorso qua comunque mi sa che la tua domanda deriva dagli approcci tramite circolo sociale che dici una mia amica eccetera quindi ti consiglio di darti agli approcci a freddo poi dopo nel circolo sociale sei troppo limitato c'è troppa poca possibilità di far pratica se sei limitato nel tuo gruppo di amici amiche colleghi di lavoro quindi buttati negli approcci a freddo quando si potrà ricominciare a uscire o se no vai in paesi esteri però mi sa che non si può neanche viaggiare non ho ben capito questa cosa qua datti agli approcci a freddo in modo che poi diventi più capace più magnetico più sicuro e poi dopo quando sei con le ragazze che già conosci diciamo sono attratte diciamo ci interagisci in maniera automatica in maniera diciamo da risultare attraente mi capita delle volte per esempio potrei fare diversi esempi su questa cosa qua però stiamo generici mi capita delle volte di trovarmi con ragazzi in situazioni di circolo sociale ma io non ci voglio di parlare con loro perché tanto io ho gli approcci a freddo cioè quando diventate bravi nell'approccio freddo non vi farei più un cazzo di circolo sociale delle chat della discoteca perché tanto siete in grado di uscire per strada e qualsiasi ragazza vi passa per strada e vi piace siete in grado di andarci a parlare poi magari non riuscite a chiudere quella ragazza specifica però sapete che se ne approcciate un po' con una poi riuscite anche ad andarci a letto ci uscite eccetera quindi però per quello delle volte mi trovo in situazioni di circolo sociale che magari mi vogliono presentare una ragazza gli dico no dai non c'ho voglia poi lo so già che ci devo parlare così e mi devo frenare mi devo censurare perché ci parlo già naturalmente in maniera diciamo da flirt e quindi dico no dai non c'ho voglia adesso così quindi però dopo quindi pratica prima perché gli approcci a freddo e poi dopo quando sei nel circolo sociale le ragazze che conosci già lo notano questa cosa qua si crea l'effetto della preselezione anche se non ti vedono con ragazze adesso poi leggo tutto quello che avete scritto anche se non ti vedono con ragazze lo percepiscono c'è una lezione che si chiama preselezione la preselezione non si diciamo non gliela trasmettete solo quando lei vi vede con altre ragazze lo percepisce indirettamente tramite un sacco di comportamenti uno di questi è la sicurezza interiore lo vede se avete dimestichezza con lei se avete sempre la risposta pronta la battuta pronta le siete sicuri in quello che fate siete a vostro agio cosa vorrà dire perché siete a vostro agio perché avete sempre la risposta pronta perché probabilmente avete molta esperienza con altre ragazze quindi lei lo percepisce indirettamente c'è la lezione poi all'interno del corso sulla preselezione che vi spiega tutte queste cose qua allora vediamo di recuperare quello che avete scritto quindi chi ha altri feedback su paypal ce lo dica perché è un problema questa cosa qua allora vediamo cosa dice Marco aspetta un attimo abbasso il riscaldamento perché ho caldo non ho visto se l'ho alzato o l'ho abbassato lo scoprirò tra poco allora Marco chiede come si fa a rimanere in buoni rapporti poi con le ragazze anche quando non ci vai più a letto a me è sempre successo e quando finiva la magia non ci si salutava più neanche per la strada dipende dipende che intenzioni hai con lei e dipende anche perché vuoi rimanere in buoni rapporti con lei scrivimi questa cosa qua perché vuoi rimanere in buoni rapporti delle volte non è non è possibile quindi e la maggior parte di volte in realtà non è possibile cioè se se siete andati a letto e poi magari c'è stato anche qualcosa che siete continuate a frequentare e poi le cose finiscono non so io personalmente l'ho visto solo nei film che poi rimangono tutti in buoni rapporti quindi su questo non ho esperienza quindi non non te lo so dire per esempio sono a maggio dell'anno scorso sono andato in vacanza con una ragazza con la quale ce l'ho andato a letto e poi la vacanza diciamo è partita bene poi è degenerata un po' e semplicemente poi dopo sì facevamo finta di essere ancora in buoni rapporti però poco per volta la cosa è morta e pazienza quindi non devi necessariamente rimanere in buoni rapporti cioè se la cosa è finita è finita dipende anche da che contesto è se siete in un contesto da circolo sociale lì allora è una cosa se è un approccio freddo che tanto non la rivedi lì non serve non serve perché tanto non la vedi ti dico però ecco guarda ti potrei dire ti potrei dire c'è una forse anche più di una me ne vengono in mente due però io parlo di approcci freddo per strada ce ne sono due con cui sono andato a retto l'anno scorso 2019 che siamo in ottimi rapporti devo dire però c'è e non ci vediamo ogni tanto parliamo di volte io faccio magari anche delle videochiamate mentre magari sto cucinando sto facendo altro e parliamo però c'è fondamentalmente non vivono nella mia stessa città anzi neanche nello stesso paese però continuiamo a sentirci non ti posso dire la cosa che magari che sta contribuendo forse al fatto che siamo ancora in bui rapporti è che non ho mai mentito su niente e che una comunicazione defiltrata per esempio una di loro praticamente avevo messo un altro una storia su instagram dove ero tipo in giro alle 4 di notte e lei mi ha chiesto ma hai accompagnato un'altra ragazza a casa vero? e io ho detto si è vero ma lei lo sapeva già perché avevo fatto la stessa cosa con lei avevo fatto sesso poi l'avevo riaccompagnata di notte tardi fino al suo hotel e quindi lei ha intuito che sicuramente ho fatto la stessa cosa con un'altra e lì non le ho mentito quindi è un discorso più lungo quindi però non ho così tanta esperienza per risponderti su questo discorso qua però la cosa che ti posso dire è non mentire si sincero anche se magari potresti ferirla sul momento allora vediamo Fabio la ragazza non si stranisce se la porti a casa e poi non ci fai sesso quantomeno non spingi per arrivarci non c'è il rischio di passare per l'insicuro perché lei pensa non è il coraggio di concludere sì c'è questo rischio qua ma se tanto a te non interessa quella ragazza non c'è nessun problema quindi devi distinguere io sto dicendo questa cosa qua la puoi fare per far pratica con una ragazza che non ti interessa quindi cosa te ne frega se tanto non ti interessa cosa te ne frega se pensa che sei insicuro ok cos'è che dici non ci fai sesso si stranisce no per esempio io personalmente penso che non l'avrò mai fatto di portare una a casa solo per far pratica magari sì magari no no quindi non ti devi preoccupare cioè se tanto lei non ti interessa non ti devi preoccupare della sua reazione mi ricordo un ragazzo che conosco che ha fatto questa cosa qua poi ha usato come scusa il fatto che gli ha detto che in realtà lui era fidanzato e quindi ha detto no non posso ho sbagliato non devo farlo eccetera e poi la risolta così la cosa allora Cristoforo dice allora Luca per quanto riguarda l'abbondanza come si fa a trasmetterla per dire la tua grazie Cristoforo c'è una lezione nel corso si chiama come non essere bisognoso che parla esattamente di questo fra le varie cose è una lezione di mi pare due ore quella sul come non essere bisognoso parla anche di questo discorso qua ci sono due lezioni nel livello intermedio si chiamano preselezione e come non essere bisognoso che sono molto collegate fra di loro queste due lezioni e parlano molto anche di questo discorso qua sul discorso dell'abbondanza quindi come fare a trasmetterla adesso ti regalo questo trucco qua Cristoforo poi se vuoi approfondire prendi il corso però il livello intermedio queste due lezioni qua le trovi nel livello intermedio ci sono dei modi per trasmettere l'abbondanza quindi che hai tante altre ragazze anche se ancora non hai veramente tante ragazze adesso te lo spiego fammi fare prima un sorso allora per esempio prendi tanti numeri di telefono a raffica un sacco un casino di numeri di telefono in modo che ti trovi sul telefono tante ragazze con cui ti stai scrivendo questa cosa ti dà molta più sicurezza molta più scioltezza molto più non bisogno pertanto se te ne salta una ne hai altre magari dieci con cui ti stai scrivendo ma in realtà questo effetto già si crea quando ne hai anche già due tre, quattro quindi non c'è bisogno di averne dieci però se hai costantemente ragazze che con le quali ti stai sentendo che ti scrivono conversazioni da gestire questa cosa poi si vede quando ti relazioni con una nuova ragazza quindi questo qua è un piccolo trucco chiaramente poi punta alla cosa di lungo termine quindi all'avere poi dopo diverse ragazze magari con cui vai a letto questa cosa si percepisce poi quando ti approcci con una nuova ragazza quindi però puoi già dare questa percezione anche semplicemente avendo prendendo tanti numeri di telefono sentendoti con tante ragazze diverse in realtà funziona anche con il livello sotto quindi approcciando tante tante dipende però perché se approcciate tante tante ragazze e non prendete neanche il numero di telefono no quindi tirai parti dal numero di telefono inizi a prendere svariati tanti tanti numeri di telefono sentiti con tante ragazze vedrai che questa cosa qua appunto si riflette poi nella tua attitudine con le ragazze nella tua sicurezza interiore nel fatto che non sei bisognoso perché tanto anche se ne salta una ne hai altre cinque quindi questo qua è un piccolo trucco per trasmettere l'abbondanza anche quando non ce l'hai ancora quando poi ce l'hai veramente è una cosa veramente magnetica mi ricordo più di un anno fa mi ricordo c'è stato un giorno particolare che tipo la sera prima ero andato a letto con una il giorno dopo avevo un appuntamento con una di pomeriggio e la mattina mi ha scritto una per uscire con me il pomeriggio stesso e che però io dovevo già uscire con una quindi gli ho dovuto dire di no e non so lo percepiscono in qualche modo le ragazze questa cosa cioè si lo percepiscono dai comportamenti comunque è lunga a spiegare c'è la lezione sulla preselezione e come non sia bisognoso per chi non si ricorda il corso lo trovate su www.approcciola.it allora Marco mi interessa in generale capita anche che ragazzi approcciate le rincontri in altri contesti questa è la mia esperienza perché comunque vivo in realtà di piccole città e quindi mi creava sempre un po' di disagio questa cosa anche perché non sapevo bene come comportarmi se salutare o no cose così e dipende se lei ti interessa veramente ancora a me capita delle volte di rincontrare no personalmente mi è capitato forse qualche volta di rincontrare ragazzi con cui sono andato a letto per strada cioè le ho rincontrate per strada non so personalmente mi ricordo una una volta l'avevo evitata perché non c'era voglia di parlare con lei e però mi ha riapprociato lei mi ha detto Luca quanto tempo così e poi mi ha invitato lei in stand date e poi tipo siamo usciti ancora però fondamentalmente con lei non mi sentivo più quindi fammi rileggere la domanda allora questa è la mia sentenza perché comunque vivo in realtà piccola mi crea un po' di disagio questa cosa e è una non è tanto un cosa fare è una è una questione di paura del giudizio degli altri quindi devi toglierti la paura del giudizio degli altri e ci sono già diversi video che ho fatto su youtube su questo argomento o se no se vuoi cell all'interno del corso c'è la lezione sull'ansia e approccio che dura tre ore c'è anche la parte sulla paura del giudizio degli altri non ti so dire troppo su questa cosa qua però cioè da quello che scrivi si vede che non è tanto una questione di che cosa devo fare dipende da quali sono le tue intenzioni se vuoi mantenerci dei rapporti salutala se non te ne frega niente evitala non incrociare lo sguardo fai finta di niente tira dritto e dipende da quali sono le tue intenzioni con lei però non è tanto da quello che scrivi percepisco che non è tanto un che cosa fare è una questione di paura del giudizio degli altri secondo me poi lo sai solo te questa cosa però allora ok va bene bene non ci sono altre domande qua va bene qua ce ne sono ancora un bordello forse di domande vediamo una due tre tre domande ah beh dai non ce ne sono tantissime ancora allora fatemi vedere dove siamo arrivati ok spero di aver saltato nessuna domanda perché ce ne sono un po' qua un po' qua poi chi è collegato se vuole può scrivere anche altre domande sono qua apposta allora lì ce n'è un'altra di Marco anche se so che non me ne deve fregare nulla ho veramente un sacco di blocchi a causa di quello che pensano gli altri ok vedi ti leggono il pensiero Marco la paura del giudizio degli altri ci sono tipo cinque video forse su youtube sul mio canale che si chiamano come superare la paura del giudizio degli altri sono tutti numerati parte 1 parte 2 parte 3 ci sono diversi spunti non sto magari qua a ripeterti tutte le cose perché ci ho già fatto cinque video o quattro non lo so su questo argomento quindi fondamentalmente è una questione di autostima però anche qua è lunga da spiegare non a caso ho fatto una lezione di tre ore su questo discorso qua quindi per esempio te lo spiegherei però l'ho già spiegato miliardi di volte quindi ti rimando i video su youtube ci sono ne ho già fatti tipo cinque di video su questo argomento se no se vuoi approfondire c'è il corso c'è il videocorso su www.approccio.it nella lezione sull'ansia e approccio dura tre ore quella lezione c'è la parte anche sulla paura del giudizio degli altri allora catalin è vero che le ragazze che ti rimbalzano per strada le si può riprociare in futuro potrebbero reagire meglio e farci qualcosa cioè i no non sono eterni e definitivi sì vero ti posso anche dire una volta c'era una che in città grandi grandi a milano se approcci le italiane e se esci frequentemente capita di riapprocciare le ragazze se approcci turiste non ti capita praticamente mai il caso di riapproccio cioè se lei non vive nella tua città non succede praticamente mai se è una ragazza locale allora e se tu esci anche frequentemente allora capita mi ricordo c'era una che praticamente l'avevo approcciata una volta ci avevo parlato un po' però poi non ci avevo fatto niente non avevo preso neanche il numero poi l'ho riapprociata per sbaglio perché non mi ricordavo che era lei l'ho riapprociata non mi ricordo dopo tipo magari una settimana e tipo mi ha detto però era presa bene mi ha detto ancora tu così ma era un ancora tu preso bene però io avevo già messo diciamo ero già partito per il fatto che tanto mi aveva già rifiutato una volta quindi non ci posso far niente quindi ci ho parlato due secondi poi mi sono andato via l'ho riapprociata la terza volta per sbaglio ancora e lei era sempre presa meglio non capisco però io partivo già dal fatto che tanto non ci potevo far niente e poi ad un certo punto quando ho realizzato questa cosa qua ho detto minchia la prossima volta che l'approccio di uno per sbaglio rimango e però non l'ho mai più ritrovata questa qua quindi il no non è necessariamente definitivo più che altro però nel circolo sociale in strada quante volte ti capita di riapprocciare un'altra magari in città più piccole succede in realtà succede mi è successo un sacco di volte anche a Milano però devi approcciare ragazze locali se approcci ragazze turiste non ti capita è impossibile che le riapprocci perché se ne vanno via poi però sì vero allora Anonimo chiede ciao Luca vorrei chiederti un consiglio ora ti spiego i miei vanno via per una settimana a luglio e una ad agosto quindi in quelle settimane una e una devo fare il possibile per portare i ragazzi a casa ma avendo la possibilità di scegliere quando prendere le mie ferie quando dici di prenderle la mia settimana la settimana prima che partono loro che loro partono o quella dopo nella settimana di ferie ovviamente cercherò di fare più day game possibile allora dipende da in quale città sei se sei una città che ha molto turismo a parte che mi sa che il turismo sarà un po' morto in Italia per quest'anno però dipende in quale città sei se c'è molto turismo allora ti dico di partire di prenderti le ferie qualche giorno prima che i tuoi genitori partono quindi magari 1, 2, 3 giorni prima però dipende anche da a che punto di partenza sei quindi se sei agli inizi e non riesci a fare gli stand date allora questa cosa non farla cioè fammi pensare allora se sei capace di fare gli stand date quindi se sei già a livelli abbastanza buoni prenditi le ferie magari già da 1-2 giorni prima che i tuoi partono se invece sei in una città magari dove ci sono ragazze solo ragazze locali allora prenditi le ferie già da 5-6-7 giorni prima che i tuoi genitori partono perché poi prenderai dei numeri non farai gli stand date come ti ho detto valuta queste variabili che ti ho detto prenderai un po' di numeri e gli appuntamenti poi li farai dopo nella settimana in cui in cui i tuoi genitori non ci sono oppure magari farai anche il primo appuntamento durante la settimana in cui hai preso le ferie magari non chiudi il primo appuntamento e poi chiudi il secondo appuntamento nella settimana dopo in cui i tuoi non ci sono quindi dipende da a che punto di partenza sei e dipende anche da in quale città sei cioè a che punto di partenza sei a che livello sei allora abbiamo altre due domande qua e poi abbiamo finito quindi io se fossi in voi scriverei poi abbiamo un altro anonimo che chiede buonasera Luca la mia domanda è questa su che base dici che se voglio approcciare la strada la città deve essere almeno 250.000 abitanti io anche non essendo di Brescia o Parma le trovo comunque città valide per fare esperienza anche se hanno 200.000 abitanti ps io non abito in nessuna di queste due però ci andrei a fare dei game lo stesso andrei a Milano giusto per avere un feedback da esso anche se molto bombardata dal game di giorno a quanto pare allora sì in teoria puoi fare esperienza anche in città più piccole come dici tu a Brescia a Parma però è molto più limitata la cosa quindi dipende da quanto vuoi andare veloce cioè se tu dici in città che sono magari sotto i 250.000 abitanti dici esco e sto in giro due, tre, quattro ore e faccio 20 approcci mi sa che non ci riesci o comunque fare un buon quantitativo di approcci per far pratica è abbastanza improbabile che ci riesci quindi per quello servono città che hanno comunque un minimo di flusso di gente e questo minimo di flusso io l'ho identificato a 250.000 abitanti mi sono messo anche a guardare per esempio dove fanno i corsi le altre scuole di seduzione che fanno i corsi anche in altre città io per il momento speriamo che arrivasse la storia del virus i corsi li facevo solo a Milano però se li facessi in un'altra città farai Milano e Roma perché non serve andare in città cioè Milano e Roma sono quelle migliori dove puoi praticare di più perché limitarci il campo quindi poi magari tu dici ti sembrano città grandi Brescia o Parma magari però perché tu vivi in una città ancora più piccola quindi dipende io sono andato diverse volte anche in altre città più piccole eccetera non per fare dei game però lo vedevo in giro mi guardavo in giro il flusso è molto ridotto quindi e comunque tu dici Milano è bombardata dai gamers ma non è vero magari c'è un po' di gente in giro però la maggior parte ricordatevi che sono sempre persone comunque che in realtà non sono capaci come in quattro stessi cosa quindi non sto parlando male di nessuno la maggior parte delle persone non è capace quindi nel momento in cui vi elevate un minimo non esiste la competizione anche quando sono stato a Varsavia che c'erano tutti i giorni 20 barra 30 persone in giro a fare dei game quindi a procedere per strada e comunque io in realtà ero lì per fare un corso quindi per tenere un corso quindi ero lo studente che approcciava e comunque in 7 giorni si è fatto 6 appuntamenti su un totale di 140 approcci quindi con quei suoi 20 approcci al giorno si rifaceva comunque nonostante fosse bombardata la zona di approcciatori però nel momento in cui ti elevi un minimo prendi i tuoi contatti se magari fai gli stand date fai gli stand date e ti togli la strada è fine non c'è più non c'è la competizione io ho fatto qualche approccio di sfuggita quando ero a Varsavia ne avrò fatti 10 in una settimana forse non perché ero impegnato a tenere il corso però ho fatto due stand date mi pare uno di sicuro ah no ne ho fatti due su 10 approcci nel momento in cui sei capace approcci una se c'è la possibilità di fare stand date fai stand date e ti togli dalla strada e quindi non c'è nessun tipo di bombardamento allora vediamo qua abbiamo l'ultima domanda allora un attimo allora domanda di Anonimo che si è firmato come il creatore del caos allora ciao Luca se un uomo nel rapporto con le donne non vuole trovare né una fidanzata né una moglie e quindi vuole solo far sesso con più donne possibili di varietà diversa eccetera come vedi la mentalità sua di poter dire bugie bianche o meno bianche ma pur sempre bugie per poter arrivare a far sesso con lei cioè se io voglio solo far sesso non mi importa di dire bugie a lei se voglio solo farmela o no aspetta un attimo cioè se io voglio solo far sesso non mi importa di dire bugie a lei se voglio solo farmela o no ovvio non riguardanti al lavoro auto eccetera ma tipo hobby età raccontare storie eccetera certo senza farsi sgamare come di polli allora adesso ti rispondo la premetto che io sconsiglio di mentire quindi qualunque sia il tuo obiettivo che sia una relazione farci sesso e basta senza più rivederla farci sesso per avere un'altra amicizia io sconsiglio di mentire potresti magari delle volte dire delle cosiddette bugie bianche come dici te magari sull'età quindi magari non so se punti a una che magari è più grande di te e magari tu sei molto giovane magari ti può alzare l'età di qualche anno io non lo faccio per esempio quindi ci sono due lezioni all'interno del corso una su come provarci con le ragazze giovani e una come provarci con le ragazze adulte se per esempio tu sei adulto è tutto spiegato poi nel corso però io sconsiglio di mentire io non mento sul discorso dell'età un attimo che oggi mi parte la voce quindi io sconsiglio di mentire puoi mentire magari se appunto il tuo intento è solo andarci a letto e non rivederla più puoi anche farlo tanto menti lì e basta e poi non rivedi più però io sconsiglio di farlo comunque quindi magari puoi mentire sull'età magari per esempio sul per esempio ti dico quello che mi viene in mente adesso per esempio se approcci ragazze ti faccio un esempio in Russia in Ucraina le ragazze sono molto dubbiose sul ma perché tu sei lì soprattutto se sei italiano ti chiedono ma perché tu sei qua quindi tu dirgli che sei venuto lì per rimorchiarti le Russe e le Ucraine non è molto intelligente come cosa quindi te la devi rielaborare come cosa quindi gli dici no sono qua perché ho un meeting di lavoro devo essere qua per lavoro non lo so però in questo caso va bene rimpacchettarti la realtà perché se no poi te la bruci perché se gli dici no sono venuto qua per rimorchiare le Russe è un po' un problema e loro lo sanno per quello te lo chiedono già in anticipo quindi questo è un esempio vediamo se mi viene in mente altro per esempio se magari lei ti chiede sul discorso se vuoi una relazione oppure no io appunto sconsiglio di mentire potresti magari però io vediamo se potresti dirle che a te le dico io se magari lei me lo chiede le dico che non lo so dipende se poi mi trovo bene o c'è una connessione particolare eccetera che in realtà comunque è vero cioè uno in realtà io non io non parto dal presupposto e vi consiglio di fare lo stesso di non partire dal presupposto di voglio una relazione oppure voglio un altro amicizio oppure voglio far sesso con la ragazza senza rivederla più quello lo valutate dopo in base a come vi trovate con la ragazza quindi non partite subito dal presupposto in modo che potete anche rispondere con la ragazza in maniera sincera quindi se lei vi chiede ma tu cosa cerchi tu vuoi una relazione vuoi altro rispondete guarda non so dipende poi da come mi trovo con la persona se c'è una connessione particolare eccetera quindi in questo caso non state mentendo però è meglio che dirle no non mi interessa la relazione voglio solo scopare quindi dipende ci sono diversi dipende però il concetto per chi ha fatto la domanda è non mentire sconsiglio di di mentire perché poi comunque è stressante come cosa ti devi ricordare che l'hai mentito e quindi devi mantenere quella versione lì eccetera e comunque ci sono un sacco di ragazze che non cercano una relazione quindi non serve che stai a mentire semplicemente tu essendo come sei stai già filtrando stai già profilando quelle poi risuoneranno con te quindi quelle là che poi si identificheranno esattamente cioè si troveranno bene con te quindi stai già profilando in questo modo e comunque le ragazze già lo capiscono dall'attitudine se tu sei più uno dalla relazione più uno che va con tante ragazze lo capiscono da come ti interfacci con loro se sei molto sicuro se la risposta è sempre pronta lo percepiscono questo qua sicuramente se sei così preparato se sei così esperto se sei così sicuro probabilmente perché ha anche altre ragazze e ci sono anche ragazze comunque che in realtà la maggior parte che anche se cercano una relazione comunque vanno avanti lo stesso con te anche se sanno che tu non cerchi una relazione perché tanto poi loro nella loro testa dicono ah no ma io lo cambierò riuscirò a fargli cambiare idea quindi per esempio mi ricordo di una che un po' di mesi fa che praticamente ce l'ho andato a letto il primo appuntamento e lei era ovvio che cercava una relazione me l'ha detto anche esplicitamente io lì non l'ho detto niente quindi anche questa cosa qua semplicemente ometti il discorso se ti dice accenna questo argomento tu ometti il discorso non significa mentire semplicemente ometti il parlare di di questo quindi io lì non l'ho detto niente abbiamo continuato l'appuntamento e poi l'ho portata a casa poi dopo abbiamo continuato a vederci ho tirato la corda finché potevo poi lei mi ha detto guarda io voglio una reazione questa cosa non mi va bene e quindi ciao ho tirato la corda finché si poteva e basta quindi boh mi pare che non ci sia altro sto reggendo un attimo la domanda però il discorso è non mentire non mentire e tu dici come non farti sgamare non devi essere sgamabile non devi essere sgamabile tu non mentire parlare in maniera defiltrata rimpacchetta le cose che sarebbe stupido dirle cioè se tu non vuoi una reazione lo sai già non dirle voglio solo scopare è stupido magari trovi qualcuna che anche lei magari è super esplicita e risuona con questa cosa qua però no però il concetto è non mentire in modo che non sei sgamabile però rimpacchettati in modo da eccetera già spiegato non lo so ho fatto un'insalata ai parole però più o meno penso si sia capito qualcosa se qualcuno ha altre domande chieda pure poi se avete amici che potrebbero essere interessati a questi argomenti aspetta un attimo fatemi vedere se i commenti funzionano ancora da qua pare di sì quindi se poi avete amici che potrebbero essere interessati a questi argomenti potete invitarli al gruppo facebook c'è il tasto per invitare la gente se no se puoi guardarti in differita da youtube potete condividere questo video con qualcuno quindi vi ricordo che è uscito il videocorso dall'approccio al sesso che vi insegna tutto dall'approccio al sesso da un approccio per strada che sia di giorno di sera ma comunque per strada di solito è di giorno fino al 16 di marzo costa la metà quindi ci sono tre livelli si chiama livello base livello intermedio livello avanzato chi prende il livello intermedio siccome il livello avanzato non è ancora pronto chi prende il livello intermedio poi gli regalo il livello avanzato quando sarà disponibile quindi il livello avanzato quando uscirà costerà 2000 il livello intermedio a oggi che costa la metà che costa 750 quindi con 750 prendete un corso che poi costerà 2000 quindi poi fate voi e rispiego la cosa della storia del virus che alcuni mi chiedono ma ha senso prendere il corso adesso che c'è il virus eccetera prendete il corso adesso che poi tanto la gente prima o poi torna a uscire cioè non durerà in eterno questa cosa qua quindi quando poi la gente ricomincia a uscire voi siete già preparati perché tanto il corso ad oggi come oggi dura 30 ore non lo studierete in un giorno e non basta sentirlo una volta il corso ma non perché il mio corso tutti i corsi non basta sentirlo una volta lo dovete sentire allo sfinimento per impararlo prendetevi magari anche degli appunti dopo che l'avete sentito un po' di volte quindi avete il tempo adesso che siamo tutti chiusi in casa per studiarlo poi dopo quando la gente ricomincia a uscire per strada siete già avvantaggiati e come vi ho detto ci sarà la corsa all'oro ci saranno tutte le ragazze che sono in astinenza da settimane mesi dipende da quanto durerà sta cosa e quindi ci sarà la corsa all'oro quindi siete già poi avvantaggiati quando ci saranno le ragazze chi chi si sarà portato avanti si accaparrerà più ragazzi di tutti e pare che qua non ci siano altre domande quindi sfruttate i prezzi che adesso sono dimezzati se avete difficoltà a pagare con Paypal fatecelo presente all'assistenza Whatsapp al 351 646 6774 il corso lo trovate su www.approcciala.it per chi poi guarda indifferita da Youtube comunque il link è in descrizione quindi io non ho altre domande non ho non so se avete qualcos'altro a chiedere chiedete se no tanto ci vediamo domani queste live dureranno ancora fino al 16 di marzo quindi poi avete anche questi giorni per chiedermi varie cose e basta poi dopo torniamo a una live ogni settimana quindi il lunedì alle 21 però per il momento ci sarà la live tutte le sere quindi pare che non ci siano altre domande se le scrivete adesso io poi le vedrò dopo rispondo domani quindi www.approcciala.it se avete domande 351 646 6774 ci vediamo domani